Vergine Siana Ferrario, 3 settembre 1957, segno zodiacale Vergine Per le questioni legali, l'anno scorso è stata nera Tg1, cambio dei conduttori, via dal video la Ferrario Adesso invece qualcuno viene rimesso in un posto di lavoro Tg1, Ferrario, batte la Rai, tornerà a condurre Bando alle ciance, qui bisogna ciancicare